Siete incontri con esponenti di rilievo che hanno affrontato grandi temi di attualità. Tra le preziose teche del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, bilancio positivo per il Magna Grecia World Fest Racconti d'Inverno, l'evento itinerante del Magna Grecia World promosso e sostenuto dall'assessorato alla cultura di Ostuni, in programma per la prima volta nella città bianca. Il bilancio è molto positivo, Ostuni è stata impreziosita da molte persone, molti ospiti illustri che hanno trattato diversi argomenti, quale mafia, banche, fine vita, le donne stasera, la Brexit, quindi abbiamo impreziosito questa città già preziosa di per sé, di persone importanti che hanno dato lustro e hanno parlato di tematiche quotidiane partendo dai libri da loro scritti. La particolarità di questi racconti d'inverno, di questo Magna Grecia World Fest è che sono stati i protagonisti, oltre i vari personaggi illustri che ho detto prima, proprio i ragazzi che con delle domande spontanee durante la conversazione, durante il talk, hanno chiesto di parlare di argomenti che probabilmente persone più grandi non avrebbero toccato. A chiudere la rassegna all'incontro con la giornalista Tiziana Ferrario che nelle pagine del suo ultimo libro, Orgoglio e pregiudizi, risveglio delle donne ai tempi di Trump, racconta il coraggio delle donne a partire dalle loro storie, dagli incontri e dalle battaglie contro le discriminazioni. Diciamo che ci sono soprattutto storie di donne coraggiose e io ho scelto queste storie proprio perché spero che siano di ispirazione anche per le donne italiane che trovino un po' il coraggio di farsi valere. Forse c'è un po' bisogno di ricominciare anche a chiedere un po' più di diritti, ad alzare un po' di più la voce. Io ho guardato quello che sta succedendo in America, c'è un grande fermento e stiamo vedendo che sta arrivando anche qua il caso delle molestie sessuali, è un esempio, ma là prima di questo scandalo di Hollywood ci sono stati una serie di altri scandali e io cerco di raccontare un po' l'America di oggi, l'America di Trump, il fermento che c'è tra le donne, però lo metto sempre a confronto con il nostro paese. Spero che sia una fonte di ispirazione per tutti, uomini e donne insieme. Voglia di parità interpretata anche in una performance speciale dai ragazzi dell'Officina del Sole, la compagnia teatrale del liceo classico Calamo di Ostuni ai quali è stato assegnato il premio speciale Mania Grecia Awards.